Tutti si proclamano antifascisti, beh non è difficile essere antifascisti visto che non ci sono più i fascisti e poi dicono no il fascismo c'è ancora, ma ora vado a vedere i risultati elettorali, gli ultimi Casa Pound che è l'unica formazione fascista che abbiamo in Italia e ha preso lo 0,3-0,4% quindi non posso dire che sia una formazione minacciosa, anzi inesistente quindi tutto questo sforzo per essere antifascisti in assenza di nemico mi fa ridi